Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Allora, lo sto coprendo la targa con la mano, questo è un furgone isotermico che ho donato tramite la mia fondazione alla Croce Rossa Italiana che domani partirà per l'Ucraina ed è tutto pronto e ovviamente è isotermico perché l'inziocholina deve stare a temperature basse per poter arrivare a destinazione e domani partiranno. Credo, partirà lui, tu, tu, mille, si sparerà mille chilometri, mille chilometri. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.